21 marzo buongiorno a tutti cari amici del canale youtube rieccoci ben ritrovati un caro saluto da parte mia a tutti voi iscritti al canale continuate iscrivervi è tanto facile semplice basta un click e proseguite su questa strada continuate così tanti argomenti in questo video si parte con l'allenamento a milanello oggi la squadra riprende ad allenarsi dopo tre giorni di stop di pausa concessi da stefano pioli in seguito alla vittoria in casa del verona per 3 a 1 quella partita è stata giocata di domenica poi lunedì martedì e mercoledì di pausa di libertà per i giocatori oggi a milanello la ripresa senza tanti giocatori invece ancora in in nazionale e a proposito dei giocatori in nazionale purtroppo c'è da registrare un'altra diciamo così notizia poco piacevole una notizia spiacevole che riguarda il rientro anticipato di benasser dalla nazionale algerina a causa di un infortunio nel comunicato della federazione algerina si parla di un infortunio di lieve entità piccoli dolori per benasser immaginiamo anche dal punto di vista muscolare è chiaro che però è un giocatore che da qualche mese a questa parte diciamo dall'anno scorso ad oggi prima con il grave grave e importante problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori per tanti mesi poi con piccoli intoppi muscolari quasi sempre accusati in nazionale c'è da dire e questo ragazzo non riesce mai a trovare continuità e quindi c'è questo nuovo stop da registrare la speranza del milan e che benasser possa usufruire di questi giorni di sosta a milanello quindi da oggi alla ripresa del campionato per essere pronto alla gara a partecipare alla gara contro la fiorentina alla ripresa del campionato poi quando riparte il campionato ragazzi non c'è più sosta si gioca ogni tre giorni soprattutto ci sono tante partite ravvicinate e intense importanti abbiamo visto ieri il calendario la fiorentina e lecce il sassuolo l'inter in campionato nel mezzo invece ci sono i due confronti con la roma in europa league nei quarti di finale di europa league e quindi c'è bisogno di tutti benasser è mancato tanto in questi mesi anche ultimamente non è stato utilizzato sempre proprio perché probabilmente non lo si vuole sfruttare al massimo pensando sempre che lui ha questa tendenza a farsi male no tant'è vero che ho letto anche qualche tifoso un po' stufo che dice va bene tutto ti abbiamo anche aspettato ora però se sinceramente se arriva un'offerta importante lo venderei pure benasser ognuno la pensa a modo proprio pensieri rispettabili quelli dei tifosi anzi fatemi sapere se la pensate anche voi come questa parte di tifoseria sulla probabile cessione di benasser perché un giocatore che comunque è sempre fermo comunque quasi sempre infortunato c'è da registrare questo nuovo intoppo non sembra che sia qualcosa di grave però il giocatore è già la seconda volta negli ultimi mesi prima gennaio ora a marzo che si fa male in nazionale ed è costretto a lasciare la nazionale per ritornare al centro sportivo di milanello oggi ho letto delle dichiarazioni che riguardano morata alvaro morata in estate abbiamo provato a raccontare la trattativa tra il milan e l'atletico madrid per l'attaccante alvaro morata ex juve il giocatore voleva tornare in italia anche perché ha una moglie italiana insomma si trova si è sempre trovato benissimo in italia e il milan ci ha pensato il milan ha fatto un viaggio a madrid si è messo in contatto sia col giocatore sia con l'atletico hanno provato a discutere i termini dell'accordo non ci sono riusciti alla fine evidentemente se è morata gioca ancora all'atletico madrid ma oggi c'è anche la conferma da parte del dell'attaccante spagnolo lui dice anche il milan si è fatto vivo in estate perché poi in questa intervista racconta che ci sono stati diversi club italiani compreso la roma e il milan a provare a prendere morata chissà se morata per la prossima estate quindi estate 2024 possa tornare ad essere un nome valido per l'attacco del milan visto che il milan in attacco deve rinforzarsi anche qui vi chiedo nei commenti cosa ne pensate puntereste su altro ieri abbiamo parlato di sesco o anche di zirk zee ci sono tanti altri nomi che girano jonathan david girassi morata che comunque ammette contatti con il milan l'anno scorso ma questo nulla vieta al milan di poterci riprovare anche quest'estate rimanendo in spagna sponda real e non atletico quindi rimanendo a madrid ci sono delle belle dichiarazioni anche di brain diaz l'ex fantasista l'ex trequartista del milan che è rimasto è rimasto tre anni in rosso nero a milano e cresciuto è molto legato anche ad alcuni giocatori del milan mi viene in mente teo hernandez tra l'altro i due condividono anche l'esultanza recentemente teo ha subito questo cartellino giallo contro il verona in maniera ingiusta proprio per avere esultato e nel suo instagram aveva anche taggato brain diaz con questa esultanza brain dice al milan sono mi sono trovato molto bene abbiamo fatto grandi cose e la verità è che sono molto grato alla società lo dico sempre brain era stato preso da maldini e massara sono tornato al real più maturo con più esperienza ma con la stessa voglia di vincere però qui ancora una volta elogia il milan mi sono trovato molto bene e sono sempre grato alla società milan a proposito di società veniamo ancora ad un altro altro argomento c'è l'argomento mike magnan sappiamo bene che il milan vuole rinnovare il contratto al portiere è un giocatore troppo importante per il milan anche se questa stagione ha avuto alti e bassi no ci sono state alcune partite non eccellenti da parte di magnan ma non importa può capitare è un giocatore troppo importante è un portiere fondamentale per il milan per la sua leadership per il suo carisma per il suo essere perfezionista per il fatto che ogni volta vuole migliorarsi anche in allenamento in partita il milan lo vuole rinnovare sono partite le discussioni mi hanno proposto circa 4 milioni e mezzo più bonus cifra comunque importante più o meno quello che guadagna teo hernandez la richiesta di mike magnan è di avere un ingaggio alla rafaleau quindi 5 fissi più 2 di bonus che si arriva a 7 e questo è l'ingaggio attuale di rafaleau infatti pensate che magnan attualmente ha un ingaggio da 2,8 milioni quindi vorrebbe praticamente il doppio rispetto a quello che guadagna attualmente la discussione verte quindi su queste cifre lui vorrebbe guadagnare attorno ai 7 compresi bonus proprio come leao quindi 5 più 2 5 e mezzo più 1 e mezzo insomma la richiesta è quella il milan vorrebbe anche accontentarlo vediamo se nei prossimi incontri ci sarà la possibilità di scalare verso il basso quindi di ridurre la richiesta di ingaggio c'è da dire anche che in estate potrebbero arrivare delle offerte per mike magnan è anche vero che stiamo entrando in un'estate delicata per i giocatori che hanno due anni di scadenza come teo e come magnan perché perché comunque a due anni dalla fine del contratto scadenza fissata al 30 giugno del 2026 e o rinnovi oppure c'è il rischio che hai ti ritrovi col contratto in scadenza nel corso dei prossimi mesi ed è pericoloso per giocatori così importanti come magnan a teo o lo stesso leao all'epoca quindi in miana si trova di fronte ad un'estate di decisioni nei confronti di magnan e teo hernandez che hanno il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e l'idea è rinnovare entrambi l'idea è prolungare di almeno altri tre anni quindi nel 24 far scattare altri tre anni di rinnovo con adeguamento salariale per entrambi al momento sembra che il giocatore che abbia fatto delle richieste un po più alte è proprio mike magnan c'è questo nodo sulle cifre vedremo se questo nodo potrà essere sciolto altrimenti se dovessero arrivare offerte davvero molto alte ma quando parlo di offerte alte si parla addirittura di 100 milioni perché è quella la valutazione di magnan che filtra un po da dalla sede no vogliono cifre altissime per mike allora a quel punto si potrebbe anche intavolare una trattativa con un possibile acquirente c'è però da aspettarsi prima l'offerta cioè se l'offerta arriva allora si tratta magari la la cessione ma se non dovesse arrivare un'offerta così alta almeno conviene tanto rinnovare conviene rinnovare per non poi far calare neanche il valore del cartellino del giocatore francese detto questo io credo che sia comunque una un'estate una primavera importante per mike magnan e per giocatori in scadenza vedremo cosa succederà saremo ovviamente pronti a raccontarvi tutto un abbraccio a presto ciao ciao